Avvocato Angelo D'Abramo, sindaco di Leporano, sempre in attività non solo d'estate, siamo nel periodo natalizio e questa è un'iniziativa che vede coinvolte tante professionalità con un obiettivo, quello di guardare alla solidarietà, quindi professionalità, arte e sensibilità verso i più deboli. Noi quando si tratta di solidarietà siamo sempre i primi, siamo sempre vicini alle persone che soffrono, noi approfondiamo il massimo impegno lì dove si tratta di apportare qualcosa di positivo per le persone che hanno bisogno più di noi. E chiaramente questa manifestazione si inserisce nel novero delle 20 manifestazioni del periodo natalizio che porteranno sempre lustro e attrarranno un sacco di gente sul nostro territorio. Sindaco, tanta partecipazione e soprattutto tanti giovani protagonisti, ecco questo è il messaggio, giovani, ragazze che si avvicinano al mondo del lavoro attraverso un percorso di formazione, ma ecco l'impulso verso i giovani, Leporano è di giovani. Natale in Glamour è una manifestazione importantissima che mette in vetrina chiaramente quelle che sono le nostre potenzialità sul piano proprio della produzione, ma non solo produzione nell'ambito dell'abbigliamento, ma anche di tutto quello che ruota attorno. E quindi noi appena vediamo queste situazioni chiaramente le accogliamo a braccia aperte proprio per dare lustro ai giovani e sviluppare questo discorso nel nostro territorio. Grazie a tutti.